Dalla lettera agli ebrei Fratelli, Cristo è mediatore di un'alleanza nuova perché essendo intervenuta la sua morte in riscatto delle trasgressioni commesse sotto la prima alleanza coloro che sono stati chiamati ricevano l'eredità eterna che era stata promessa Cristo infatti non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo figura di quello vero ma nel cielo stesso per comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore e non deve offrire se stesso più volte come il sommo sacerdote che entra nel santuario ogni anno con sangue altrui in questo caso egli fin dalla fondazione del mondo avrebbe dovuto soffrire molte volte invece ora una volta sola nella pienezza dei tempi egli è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso e come per gli uomini è stabilito che muoiono una sola volta dopodiché viene il giudizio così Cristo dopo essersi offerto una sola volta per togliere il peccato di molti apparirà una seconda volta senza alcuna relazione con il peccato a coloro che l'aspettano per la loro salvezza cantate al Signore un canto nuovo perché ha compiuto meraviglie cantate al Signore un canto nuovo perché ha compiuto meraviglie gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo cantate al Signore un canto nuovo perché ha compiuto meraviglie il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia e gli si è ricordato del suo amore della sua fedeltà alla casa di Israele cantate al Signore un canto nuovo perché ha compiuto meraviglie tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio acclami il Signore tutta la terra gridate, esultate, cantate inni cantate al Signore un canto nuovo perché ha compiuto meraviglie cantate inni al Signore con la cetra con la cetra e al suono di strumenti a corde con le trombe e al suono del corno acclamate davanti al Re il Signore cantate al Signore un canto nuovo perché ha compiuto meraviglie Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo gli scribi che erano scesi da Gerusalemme dicevano Costui è posseduto da Belzebul e scacci i demoni per mezzo del capo dei demoni ma egli li chiamò e con parabole diceva loro Come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso quel regno non potrà restare in piedi Se una casa è divisa in se stessa quella casa non potrà restare in piedi Anche Satana se si ribella contro se stesso ed è diviso non può restare in piedi ma è finito Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni se prima non lo lega Soltanto allora potrà saccheggiargli la casa In verità io vi dico tutto sarà perdonato ai figli degli uomini i peccati e anche tutte le bestemmie che diranno ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno è reo di colpa eterna Poiché dicevano è posseduto da uno spirito impuro Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti